Bella ragazzi sono Daryl e sono tornato con un nuovo gameplay Con un nuovo episodio di A Voi La Scelta E questo oggi è un'altra arma di merda Come sempre voi mi consigliate E siete bravissimi a fare questo Oh, attenzione Ed è il Vepr con il mirino olografico E il fuoco rapido, ma è forte regà Fermi Vabbè a parte scherzi Comunque È una classe di merda, ho solo avuto culo Fino adesso, non pensate Non pensate che andrò bene Oh, certo però Se lo prendi c'ha una potenza Quest'arma Cioè è ravvicinata, è veramente potente Mamma mia, Daryl Attenzione Oh, oh, oh Li fa neri Prima cosa, non ho il silenziatore Quindi No Oh, oh, colpo alla testa Mamma mia, fermi Fermi che faccio Faccio la game La faccio, cioè Qualcosa di incredibile Intanto fammi azzitta Questi perché non li Questo che mi fa Questo non muore Cioè a me mi dici Questo non muore Porca puttana Ti sto, si sto Aprendo il culo Ti sto prendo Enamo un po' Su Dove sei? Su Mamma mia, regala Starmano Non è poi così tanto brutta Cioè guarda questo Stava correndo E se è girato Cioè vabbè Non è così la killcam Perché ovviamente la killcam Non corrisponde mai al vero Comunque vabbè Porca puttana Mentre mi rigiravo Esce quello Mi pare normale No? Come cosa Dunque 11-4 Sono primo Forse Riusciamo a finire Per la prima volta In positivo Per la prima volta In positivo Su questa serie Starebbe qualcosa Di incredibile Mamma mia Oh regà Io sta classe L'ho presa Come se era una merda Ma io Mi sa che me la Me la uso proprio Guarda che roba Cioè che cazzo Che cazzo sta succedendo Vabbè Scusate se intanto Mi assento Però mi sto concentrato Perché voglio fare un bella Un bel risultato E quanto pare Ci sto anche riuscendo Mi salto anche Però non è da me Fare questi grandissimi risultati Con queste classi di merda Io di solito Devo sempre usare La mia classe Standard Perché se no Non sono un pro Io capito Cioè Ma questo Che sa basta Porca troia Ecco Qui avete visto Proprio l'utilità Del dropshot Era qua Era Comunque Che cosa Mi dite Tanto che E E E E E E E Dove sei Sei dentro No Bella Mamma mia Il coso Artigianale Ma quanto Ti odio Quanto Ti posso Odia Oh Ristronzo Ci sta Un'altra Porta Sto Cosa De merda Qua No No Comunque Non è poi Così male St'arma Pensavo Che era Una merda Appena Ho visto La build Ho detto Ho detto Vabbè Un'altra Classe De merda Però invece Diciamo Che Oddio C'ho dietro Meno male Che Non stavo A giocare Dove siete Oh Madonna Che poi Qua su Sta mappa Di solito Non faccio Grandi risultati Nonostante Sia una mappa Che a me piace Però È un po' Troppo Uncasinata Forse Comunque Vabbè Ecco Come stanno tutti Da là Quindi Cambiato Lo spawn Perché Mi devo ricordare Che gioca Deathmatch Perché Sono abituato A giocare Sempre a dominio Diciamo Quindi Non Non sono abituato A spawn Che cambiano In continuazione Quanto sono Coglione Il bello È che Me lo sentivo Che uscivano Da là Quindi Perché ho Continuto A sparare Quello Vabbè Cose che Capitano Quando uno È stupido È stupido Eccolo Eccolo Da là Ma Carca Puttana Fateve una bella risata Tutti quanti Dai Fatevela Perché Lo so Che sono stato Stupido Perché lo sapevo Che arrivava Lo sapevo Cioè Mamma mia Do sta Questo Vabbè Sparito Cioè Stava qua Sparito Va bene Va bene Devastante St'arma Devo provare A farci Una game Non ci metto Seriamente Mamma mia No Facevo la tripla Mamma mia Che cosa Succediva Che cosa Succediva Niente Facevo una tripla Che taglio Oh Eccolo Là Mamma mia Meno male Che è finita la partita Guarda Perché Sennò Rosicchiavo Popola Grande Comunque Ragazzi È andata Abbastanza Bene Sono finito 27-11 E Mi sembra Che abbiamo Vinto Non lo so Vabbè Comunque È andata Abbastanza Bene Noi ci vediamo Alla prossima Ricordate Che mettete Mi piace La pagina Facebook Così potrete Consigliarmi Anche voi La classe Da usarla In un prossimo Video E noi ci vediamo Bella